La Castanidolo per giocare a carta bianca, carta bianca? Sì Valentina, ti do carta bianca. Grazie, lei è? Il prossimo venerdì 17 di gennaio ospiteremo il ministro dello sviluppo economico, il senatore Stefano Patonelli, e parleremo di industria e di sviluppo delle imprese nella provincia bresciana. Con lui che ha parlato è? Gian Battista Groli, presidente dell'Associazione Culturale Aldo Moro di Castanidolo. Non vediamo l'ora di venire. Ciao a tutti.